Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come sempre qui dal vostro Diablotex, oggi più carico Che mai? Allora, sono qui per un unboxing, parlo di Horizon qui, no? Ok, quindi ci siamo, ne aprirò solo uno ragazzi Quindi va benissimo così, ne aprirò solo uno perché sono uguali, non chiedetemi perché ce ne sono due perché non ve lo dirò mai Allora, apriamolo subito qui Horizon, vediamo un po' cosa contiene la confezione, a parte il Blu-ray non ci sarà nulla Quindi ve lo dico io che non ci sarà nulla ragazzi, vai, possiamo andare Ho detto che non ci sarebbe stato nulla, lì c'è Pierotteni che canta ragazzi, un artista, eh Il mio gatto è un artista ragazzi, giustamente Ecco qui il foglietto che troviamo dentro Vi faccio vedere la cover, la cover di gioco, sì Se magari spunta fuori, altrimenti l'avete un po' difficile, ecco qui E poi Ecco qui all'interno insomma la cover in questo modo, vedete? Allora il gioco occuperà nei vostri hard disk 43 giga minimo, quindi mettete anche qualcosina in più Giustamente dietro c'è scritto che supporta PS4 Pro, ma si sapeva ragazzi che il gioco supporta PS4 Pro E infatti lo giocherò su PS4 Pro ragazzi, io il gioco, quindi è così, è così E allora, vediamo un po' il da farsi, qui vediamo un po' il da farsi Allora, allora, allora Questo qui è il Blu-ray di gioco, ragazzacci maledetti Eccolo qui Ok, allora ragazzi, purtroppo qui vi do una brutta notizia E che molti di voi ci resteranno un po' male, ma è così Non farò né gameplay su questa serie E né tantomeno le live Per il semplice motivo che tanto lo portano cani e porci sul canale Come, diciamo, lo portano un po' tutti sul canale, no? E essendo che lo portano un po' tutti sui vari canali Io ho deciso di non fare né questa serie né gameplay né in live Quindi ho cercato un po' di capire ragazzi Ma io sono fatti in questo modo E poi E poi, sinceramente Non lo faccio per altri motivi che so io, ecco Quindi non arriverà né gameplay E né live su Horizon, qui sul mio canale Detto questo, spero che l'unboxing vi sia piaciuto Purtroppo C'è stato poco da vedere qui, no? C'è stato veramente poco da vedere Non c'è nulla di contenuto Detto questo Il vostro Diablotex Vi ringrazia E ci sentiremo con i prossimi unboxing Prossimi gameplay Tanto vedete che il canale Non è che mancano giochi per andare avanti, insomma Ecco Detto questo Ci sentiremo con i prossimi video E un saluto a tutti come sempre Dal vostro Diablotex Eccoli qui Horizon Appuntamento con i prossimi gameplay unboxing Ve lo ricordo ragazzi Non arriveranno né gameplay E né live su Horizon Sul mio canale YouTube Detto questo Ci sentiremo con i prossimi unboxing Un saluto a tutti Dal vostro Diablotex Sempre rock'n'roll a bestia Maremma Mayala Ciao a tutti E alla prossima ragazzacci